Quest'oggi giochiamo a Flea the Facility, dovrebbe essere una mappa che ricorda molto Venerdì 13, dove uno diventa una bestia che deve distruggere tutti gli altri e gli altri devono cercare di sopravvivere e trovare un modo per fuggire, proprio come su Venerdì 13. Sono molto curioso, non so chi capiterà alla bestia, spero non fare. Voglio esserlo io, Steph, perché non mi piace essere cacciato, voglio cacciare e uccidere tutti. No, allora, dovrebbe essere... Allora... Ah no, ci sta caricando la mappa, ok? Noi non l'abbiamo neanche votata, vabbè che tanto non conosciamo nessuna mappa, quindi non sappiamo chi è. Quindi va benissimo qualsiasi. Ok, io sono... Non ci credo. Sono una bestia! Ok, mi dice che praticamente devo... No, 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 che ho paura di te, Fede, ecco cosa succede. Che devo catturare tutti quanti. No, non devi catturare nessuno. Steph, è che io non conosco bene questo gioco, quindi non so... Cosa sta succedendo? Allora, ho la visuale tipo in prima persona con un martellone gigante, Steph. Sei così cattiva? Eh sì. Davvero? Non so bene i tasti. Q-Runner. Ah, ok, la mia speed. Ecco! Qui c'è una tipa. Ti ho visto, sai. Cioè, hai già trovato qualcuno? Ti ho visto, sai, sì. Sta correndo in tondo e mi sta sfuggendo, Steph. Tu dove sei? Non te lo dirò mai. No, 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 no. Io sto cercando i computer da hackerare per sbloccare l'uscita e fuggire. Perché funziona così quando sei di quelli che sopravvivi, hai capito? Povera. Devi hackerare tutto e scappare. Però non trovo i computer. Infatti... Steph! Mm-hmm. Sto gioco è terribile! Hai sentito i battiti del cuore? O no? No, non hai capito cos'è successo. Cos'è successo? Allora, ho steso la povera donzella. Ok. Il problema è che non so come. Adesso lei ha una corda e io mi sto trascinando il cadavere dietro. Fere, scherzi? No, te lo giuro. Te lo giuro è proprio così. Mi sta inquietando parecchio. Ti prego. Ok, penso che si sia staccata, Steph. Ma sento qualcuno che sta facendo roba al PC. Sei tu, Steph. No, ti sbagli. Apri questa porta. Sei qua. Ma l'hai richiusa tu, maledetto? Hai richiuso la porta? Aiutatemi! Aiutatemi! Povero Steph! E guarda, adesso io ti porto in giro. No, vi prego. Ma dove ti dovrei portare? Mi scongiuro, aiutatemi. Magari ti devo portare tipo nel mio nascondiglio super segreto. Non mi devi portare da nessuna parte. Sì, sì, andiamo nel nascondiglio super segreto. Steph, cerchiamolo. Io vedo delle cose blu. Qualcuno mi salvi. Steph, non verrà mai nessuno a salvarti. Nessuno gliene frega niente di te in sto gioco. Ma, Steph! E allora la tipa è scappata? Sì. La tipa è scappata! Si può scappare? Steph, torna qui. Dai, non ci posso passare lì sotto. Maledetto! È difficilissimo fare la bestia. Io ero convinto che sarebbe stato divertente. Dove sono? È un posto buio. Secondo me Steph è uscito da qui. Steph, stai ritoccando i PC? Sento rumori di Windows trani se tu li so. No, mi ha visto! No, vabbè. Ti prego, sono un piccolo nerd. Steph, vieni qua. Aiuto! Dai! Esci fuori! Steph, non mi puoi far perdere questa partita. Sarebbe una figuraccia enorme. Ciao vecchietta, dopo. Ma che vecchietta. Opla! Opla! Non ho idea, non me lo chiedere. È la prima volta che gioco la mappa anche io. Perché è quello che mi ha fregato, che mi sei scappato tu e mi è scappata quella tipa e neanche me ne sono accorto oltretutto. Occhio che mancano 12 minuti, ma allo stesso tempo due computer. E qualcun altro che sta facendo... Finito! Abbiamo aperto le porte? Ora dobbiamo uscire a fuggire. Allora io vado alla porta. Ce ne sono più di una. Io vado alla porta. Ce ne è più di una. Andate in quella, lo so già. Scommetto tutto lì. Dove sono le porte? Ok. Dove sono le porte? Questa mappa comunque svantaggia un sacco le bestie. Tu sei una bestia. Allora, qui. Hai trovato qualcuno, Ferè? No. Sono all'uscita sbagliata, mi sa. Non ci credo. È una cassaforte, non è una porta. Muoviti, Stef. Lo so, lo so che è una cassaforte. Io sono nell'altra. Muoviti, Stef. Quando non c'è nessuno. È arrivata la signorina adesso. Stef. Yes. Fammi catturare lei. Non farla scappare. È andata via. Avevo già aperto per me stesso. Stef, hai aiutato una scarsona. Che è la prima che ho ucciso. Comunque io gli altri non li ho mai visti in tutta la mappa. Non so che stanno a fare. Ma c'è solo un altro tizio, Ferè. GK29 si chiama. Mai visto? Sì, è un signorino. Boh, ha hackerato. L'ho visto com'è. Una volta mi ha dato una mano ad hackerare. Mi ha dato qualche lezioncina. Capito? Perché non ero molto bravo. Ma non lo trovo. Secondo me sono andato via, Stef. Siamo stati incredibili. No, c'è ancora, Ferè, lui. Lo segna che è ancora lì a scappare da te. Quindi è da qualche parte. Io lo vedo. Aspetta. Ma io non devo trovare lui. È nascosto in un armadio. Dimmi dove? E allora, è presente dove mi avevi trovato? Ma stasco pure io? Non credo funzioni. È presente il computer dove mi avevi trovato? E quello in alto nelle scale? Devi trovare quella stanza ed è nell'armadio. Ok. E lui è fermo qua, tranquillo. Secondo me doveva andare in bagno? Ed è andato in bagno. Ma c'è morto in bagno, Stef. Può essere... Questa era. Eccolo. Dov'è? Dritta. Quella è l'armadio. Massacralo. Massacralo. Schiposo, devi morire. Allora, non riesco a salire. L'hai preso? L'ho preso? Sì. Vieni qua. Sento colpi brutti. Ok. Ok. Secondo te sta andando bene, Stef. No. Non lo capisco. Ma tu puoi... Ok, l'hai preso. Ecco, l'ho preso. Dove devo portare? Adesso ripicchialo. Non puoi? Aspetta. Sì. Continua. Lo stendo, però non mi sembra che lo faccio fuori. Capisci? Continua. Eh, non fa, Stef. Allora, prova a metterlo... Ristendilo? Ok. Prova a metterlo su questa cosa blu. Ok. Io non so dove... No, lo devi strascinare, però. Eh, non me lo sta prendendo. Ok, ora sì. Credo, sì. Vieni qua. Vieni qua. Un esperimento facciamo. Non ci posso andare. Aspetta, sì. Oh! Ok. Bisogna metterli quindi nelle teche e rimangono lì. Ringraziate che Stef ha un cervello, raga. Ringraziate. E in pratica mi appare il tasto, mi dice di intrappolarli. Comunque è stato un fallimento perché Stef non mi ha aiutato e sei stata una persona terribile. Eh, scusami, ma cosa ti dovevo aiutare? Eravamo uno contro l'altro. Io non ti voglio più parlare. Dovevo sopravvivere, Fede. Fede. Oh, no. Ora ci divertiamo. Non mi piace, Stef, questa roba. Non mi piace per niente. Ora ci divertiamo. Che poi qua c'è Capture Them Hall. Catturali tutti. Ok. Oh, cavolo. Porca miseria. Ma ti sembra che apri una porta e ti becco. Stef, mollami. Stef, mollami. Stef, non provare. Stef. Liberami subito. Stef, liberami immediatamente. Stef, liberami. Puoi più girare anche da lì. Quindi posso finire. Quindi ho un toto di tempo per beccare l'altra. Ah, ho trovato il modo. Ho trovato il modo, eh. Però è molto lungo. Devo premere il tasto del mouse tantissime volte finché non mi si completa la barra, ma la barra è infinita praticamente, è lunghissima. No, adesso quella tizia può essere la tua migliore amica. Dove cavolo siamo? Fini a liberarmi. Ma quella lavora solo per sé. No, mi ha liberato, davvero. Non ci credo. Eugenio, grazie. Io non ci posso credere. Perfetto, bellissimo. Allora, ma dove stanno i PC? Io non li trovo. Cioè, siamo in un posto strano, non conosco le mappe. Io non ci posso credere. Asento di nuovo, Stef, maledetto. Davvero. Sì. Me ne vado via. Stef! Stef, mi stai mettendo un'ansia? Ho trovato un PC. Ho trovato un PC. Ok. Però io non ho tutta la vita intera. È notato, evidentemente, catturarmi... Cioè, lo fai un tozzo di volte e io sono fuori, capito? Poverino, Stef! Io non andrò mai ad aiutarla. Vieni con me. Non andrò mai ad aiutare. Ti porterò lontano perché... Stef, non inizierai a cantare che muciclo. La vita è così bella e lo sai. Mi sta facendo sbagliare l'acqua. Allora è ultimo. Perché non sta mai zitto, porca miseria. Ok. Ma posso anche salire qua con la tipa? Tipa? Sì, sì. Sarà già scappata, Stef. No, no, ce l'ho qua dietro. Aspetta che vediamo un altro colpetto per sicurezza. Ok. Perfetto. Andiamo. Oh, Stef, io sto facendo un PC nel frattempo. Tu stai a perdere un sacco di tempo. Perdere un sacco di tempo? Sto catturando una, ma non capisco dove sono le gabbie. Eccone una. È pieno di gabbie. Trappata. Io sto finendo il PC. Ah, perde la vita forse quando stai in gabbia. È stranissimo. Sì. Assolutamente sì. Ok. Ok. Questo PC è andato. E ora dove sta lei? Come faccio a vederla? Non te la segna? Ah, forse sì, così. Ma dove l'hai portata, Stef? Dall'altra parte del mondo? Ma sto vigliacco! È tornato quello del bagno! È tornato dal bagno? Si è ripreso, Stef? Non ci credo, ma proprio quando ci sono io. Oh, ci sta. Ok, ok, ok. Quanto ti odio, tizio del bagno. Ci hai fatto perdere un round. Andiamo. Ma l'hai pure catturato, voraccio? Sì. Siete fuggiti? Sì. Ovviamente, Stef. E stiamo acquerando un altro bellissimo PC. Oh. Non accetto di perdere contro di te, cioè. Non l'accetto proprio, Stef. Mi dispiace. Ti distruggo. No, no, non puoi. Siamo troppo forti. Adesso c'è anche il tizio che è tornato dal bagno, quindi sta benissimo. Cavolo, non le trovo. Io sto seguendo questa qui, che secondo me conosce molto bene la mappa. Dici? Non lo so. Spero. Ok. Bravo, dove stiamo andando? Stiamo andando in posti molto strani, amica. Cioè. Ok. Ok, il tizio sta per morire, eh. Ma quello se lo merita, tanto poi non gioca. Sto a te per perdere un compagno. Ok. Vabbè, era un ottimo diversivo, in effetti. Eh già, mi ha fatto perdere del tempo, di fatto. Allora. Ma dove cavolo siete finite? Eh, io sto seguendo lei. Ho detto, oh, magari aspetta. Ok, il tizio è andato. Oh, ma gli piace. Ah, perché lo fai congelare, quindi ci vuole del tempo a congelarlo. Chiarissimo. Che sta a fa' questa qui? Aiuto. Chiarissimo. Sai dove è l'altro PC? Dobbiamo trovare l'altro PC. No, ma ne mancano due. E avete entrambe a metà vita. La vostra situazione è grave. La vostra situazione è grave. Pef, prendi lei. Perché siamo... Non sapevo di essere vicino. Sei vicino, Fere. Sei vicino. Mi hai dato un indizio. Io non lo sapevo di esserlo. Ma cavolo, fai una luce enorme. Ti vedi lontano un miglio. Ma io non vedo voi. Steph, sei dietro? Dai. Volevo andare dall'altra parte. Perché mi hai preso? Devo uscire. Devo uscire da qui. Non voglio stare in prigione. L'altra signorina dov'è? Avrei preferito che tu era l'altra perché era più bassa di vita. Io forse ce la faccio però. Perché in effetti mi tiene già la barra. Quindi penso che se completo questa barra una volta per tutte finalmente riesco a uscire. Ma forse cala troppo velocemente la mia vita. Ok, grazie. Dai, Steph! Era una trappola. La stavo aspettando questa volta. Pensava di potermi fregare di nuovo. Dai, Steph! Liberami! Mi devi lasciar stare. Perché non riesco a catturarti? Perché sono immortale, Steph! Non riuscirei mai ad avermi. Allora, quella è praticamente andata. No, mica! Esci fuori dalla cella! Quella è praticamente andata. Steph, lasciami stare! Anzi, guarda, sai cosa faccio? Dato che era tua amica ti metto nella stessa identica cella. Ma mai congelata? Non si sblocca, cavolo. Aspetta che ti darà un altro colpo. Allora... Perfetto! Ero appena scappata, ma porca miseria, Steph! Allora, andiamo a divertirci, Fere. Dove puoi andare di bello? Dimmi un po'. Dai, un posto che ti piace. Adacchierare il PC, Steph! Ah, sì, ma te ne mancano anche due, Fere. Contro di me sarebbe un po' impossibile. Quindi facciamo che ti metto qua. Ah, deve anche... Ok, almeno è finito subito il round. Ti odio, Steph! Sei una persona terribile! Un applauso a Steph che è andato benissimo. Mamma mia, che bestia che sono! Solo perché avevi capito come funziona. Guarda, l'avessi capito prima, Steph, ti avrei distrutto. Ma che cosa distruggevi? Non si capiva niente all'inizio. L'hai capito tutto a spese mie, maledetto schifoso. Sì, 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 certo, certo. Faccio le flessioni per diventare più forte. Diventerò fortissima. È arrivato un nuovo tizio. Chi sei? Ciao. Ma mi scusi, ma non è proprio... Ma sei davvero così o non ti sei caricato? O ti hanno picchiato. Probabilmente picchiato. Fai le flessioni anche tu, amico! Devi diventare fortissima perché Steph è davvero una bestia! In ogni caso, ecco, sei a livello 15. Ci fermiamo così. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Fateci sapere se vi è piaciuta la mappa perché la rigiochiamo più che volentieri. È davvero divertente, a parte quando la gente va in bagno. Ma per fortuna quella l'abbiamo risolta come un problema. Mi raccomando, fate le flessioni perché fa bene. Vi fate un bel fisico. Ci vediamo in un prossimo video. Qua sotto è un altro video. Ci vediamo... Ah, ho fatto un'altra strana. Mi sono confuso. Niente, arrivederci. Ciao!